Può dare carburante a certi estremismi, però le persone che hanno sale in zucca e che tengono al bene dell'Italia e dell'Europa debbono tenere i nervi saldi e dire le cose come stanno. Noi siamo in presenza di una sfida senza precedenti che riguarda l'Occidente e anche un pezzo di quelle regioni del mondo. Anche lì ammazzano. E viviamo un momento di tale difficoltà per cui la domanda a cui rispondere è l'Europa si protegge meglio se è unita o se è divisa. È meglio affrontare la sfida di queste bestie, se siamo uniti o se siamo divisi, se facciamo circolare le informazioni su di loro, nei loro riguardi, oppure se ce le teniamo gelosamente ciascuno per sé. Ecco, questo deve avere in mente chi vuole bene all'Italia e chi vuole bene all'Europa. Oggi perché la sfida è immane, è grandissima? Perché, pensate un po', quelli di ISIS, quelli di ISIS, sono una cellula espulsa, un'organizzazione che faceva parte, che era in rete con Al-Qaeda e che è stata espulsa perché, poi sono quelli di questa sera, quelli di Al-Qaeda, no? Ma quegli altri sono stati espulsi perché erano troppo violenti rispetto ad Al-Qaeda, cioè a questi. Immaginatevi, ora, si è innescata anche una perversa quasi competizione, una gara, perché sembrava sopita la violenza di Al-Qaeda in Occidente e sembrava crescente ISIS, l'Islamic State. Ora, questa competizione tra queste due minacce ha fatto sì che le due minacce, invece di comprimersi a vicenda, si siano sommate. Di fronte a questa sfida noi non abbiamo bisogno di categorie e di parole d'ordine razziste, abbiamo bisogno di lucidità e di una strategia chiara contro il terrorismo che veda l'Europa unita, più forte e anche con la mano ferma. Mi riferisco a che cosa? A misure che siano nelle condizioni di frenare chi si vuole andare a radicalizzare nei teatri di guerra, coloro i quali possono avere intenzione di tornare, coloro i quali fanno addestramento nei paesi occidentali anche attraverso modalità di autoradicalizzazione sul web. C'è una serie di misure che possano contrastare anche sul web. C'è una serie di misure che si vuole anche sul web.